Una sentenza definitiva, o quasi, che però fa storcere la bocca a molti. Hanno nuovo ecotassa vecchia per i comuni pugliesi che hanno ricevuto sotto l'albero la delibera regionale del 17 dicembre pubblicata sul bollettino ufficiale del 24 dicembre, l'importo definitivo per tonnellate dei rifiuti indifferenziati prodotti nel 2015. Solo 14 ricorsi ammessi rispetto all'ultima graduatoria del 23 novembre scorso che alleggeriscono la situazione soprattutto dei comuni leccesi e tarantini. Nel barese solo Castellana Grotte, che ha certificato un incremento del 5% nel periodo previsto dalla legge regionale di proroga, varata non senza polemiche a marzo, ha ottenuto lo sconto e pagherà 7,50 euro a tonnellata, mentre sono nove i comuni che saranno costretti a pagare l'aliquota massima. Altamura, Casa Massima, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina, Modugno, Noicattaro, Santeramo e Valenzano. In tutta la Puglia i comuni meno virtuosi sono 42, ma resta aperta la questione del ricorso che una cinquantina di amministrazioni, soprattutto del Salento, ha avanzato al Taro ottenendo la sospensiva del pagamento. E c'è da essere sicuri che, in attesa di una ridefinizione chiara di come impostare il piano di ristrutturazione del ciclo dei rifiuti, ben lontano dalla chiusura definitiva, la Regione, che già da 5 anni ormai rimanda un'applicazione integrale della norma, difficilmente manterrà una posizione rigida sull'argomento. L'assessore Sant'Orsola continua a parlare dell'ecotassa come un deterrente nei confronti dei comuni per incentivare la raccolta differenziata, ma al contempo mette le mani avanti sui fondi nazionali già destinati al settore. 47 milioni di euro per progetti di differenziata, di cui 6,8 milioni di euro a comuni e aro, gestione della frazione umida con 21,2 milioni di euro per cofinanziare 5 impianti di compostaggio e riduzione dell'indifferenziato da mandare in discarica e 19 milioni per cofinanziare 9 impianti di recupero di materia e selezione meccanica da indifferenziato. La speranza è che, almeno per stavolta, i piani della Regione non finiscano nel cassonetto.